Esci proprio dalla caserma dei Carabinieri, ci sono novità sulla tua vicenda? Novità, ci sono alcune novità che ovviamente non posso dire, però ancora non ci si spiega questo accaduto. Sono ancora in corso le indagini per capire il motivo di una brutale aggressione ai danni di Andrea Dinori, dipendente di questo supermercato. L'aggressione è avvenuta proprio fuori dalla porta dell'esercizio commerciale e per il momento i Carabinieri non escludono alcuna pista. L'aggressione circa una settimana fa a Montessanzavino, alla fine del turno, due sconosciuti a volto coperto lo hanno selvaggiamente picchiato 30 ai giorni di prognosi per le ferite riportate. E se chiudo l'occhio ancora vedo sferrare il pugno dell'occhio con una violenza feroce. I Carabinieri di Montessanzavino stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e sentendo alcuni testimoni. La verità potrebbe essere vicina. Mai ricevuto minacce, mai ricevuto telefonate anonime, mai ricevuto danni alla macchina, niente di niente. Non mi so spiegare il motivo di questa brutale aggressione. Poteva essere ad esempio un tentativo di rapina, magari pensavano tu avessi l'incasso? Sì, poteva essere un tentativo di rapina, la cartella, la bolsa era nelle spalle, quindi poteva essere anche una rapina. Non si esclude punte piste, anche i Carabinieri non escludono punte piste.